E ora parliamo di tennis per segnalare la grande vittoria di Luciano Darderi a Wimbledon dopo 5 ore sconfitto al quinto set il giocatore di casa Gian Cioinski, il tennista seguito dal manager pescarese Luca Del Federico ha raggiunto quindi Lorenzo Musetti al secondo turno per un derby tutto italiano. L'italo-argentino ha vinto appunto al quinto set con 7546267562 ora aspettiamo il derby italiano l'altro perché come in tanti sapranno oggi c'è anche Sinner Berrettini però insomma Darderi è davvero una bella sorpresa legata in qualche modo alla nostra regione.